La crisi in regione si alimenta di colpi di scena e malumori. I nomi eletti come vicepresidenti in consiglio regionale scontentano opposizione e maggioranza. Prima visita programmata della polizia municipale nel Camponoma di asseguito di accordi tra il comune e i capi famiglia per rendere l'aria più decorosa e vivibile. Un sassarese di 22 anni conquista il titolo italiano elite sui 49 kg, un altro campione per la scuderia guidata da Domenico Mura. TG di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura partiamo dalla politica regionale. L'avete visto dagli stridi del nostro sommario. E' crisi in regione che di fatto si è aperta con le dimissioni post referendum dei due assessori De Muro e Falchi di cui abbiamo dato conto la scorsa settimana e che oggi si alimenta di nuovi malumori sia in opposizione che nella maggioranza. Ieri infatti la nomina dei due vicepresidenti Lai e Locci hanno reso l'aria irrespirabile. Le due elezioni hanno infatti disatteso le aspettative su Busia indicata dal Centro Democratico e Tedde nome designato da Forza Italia. Ora si attende il vertice di maggioranza per capire le prossime mosse. Tutti i dettagli nel servizio. Crisi e colpi di scena stanno animando il clima in regione. Ieri è stato letto l'esponente di Forza Italia Ignazio Locci con 21 preferenze alla vicepresidenza del Consiglio e per la maggioranza viene invece confermato Eugenio Lai di SEL che ottiene 19 voti. Lasciando dunque fuori dalla vicepresidenza, contrariamente alle aspettative, Anna Maria Busia del Centro Democratico che ottiene solo tre voti e Marco Tedde di Forza Italia con 13. Ed è proprio quest'ultimo atto a smuovere gli animi e alimentare i malumori. La mancata elezione di Anna Maria Busia, vicepresidente del Consiglio regionale, crea un'altra frattura nella vulnerabile maggioranza di centro-sinistra. Roberto Cappelli, deputato e dirigente nazionale del Centro Democratico, accusa gli alleati, in particolare il PD. Hanno accettato il ricato e il partito dei Sardi denuncia che ha posto un veto ad personam sulle elezioni di Anna Maria Busia e minaccia di non sostenere più la giunta a Piglieru, decisione che prenderà nelle prossime 24 ore. Quanto al consigliere di SEL, eletto al posto della Busia, Cappelli affonda, suggerirei a Eugenio Lai di dimettersi e mi aspetto che lo faccia nelle prossime ore, se ha un po' di dignità. Ma anche negli scanni di Forza Italia si anima la tempesta. Il capogruppo, Pietro Pitalis, non ha digerito l'elezione a vicepresidente di Ignazio Loce al posto di Marco Tedde, indicato ufficialmente dal gruppo. E il frutto di accordi trasversali con parte del centro-sinistra, accusa. Intanto si attende il vertice di maggioranza che si sarebbe dovuto riunire le unedì scorso. Ora l'indicazione è che entro venerdì la maggioranza di centro-sinistra potrebbe fissare il faccia a faccia con il presidente Piglieru, ma se l'appuntamento è stato spostato dopo l'elezione dei vicepresidenti in consiglio per sedare gli animi nella coalizione, l'obiettivo è stato disatteso e se il leader di centro-democratico dovesse, come minacciato, uscire dalla maggioranza, diventerebbe la terza defezione insieme agli abbandoni post-referendum della settimana scorsa di Rifondazione Rossomori. Non resta che attendere le prossime mosse. Il vicepresidente del Consiglio riconfermato, Eugenio Lai, replica duramente a Roberto Cappelli di Centro Democratico, che ieri ha minacciato di uscire dalla maggioranza per la mancata elezione di Anna Maria Busie e ha sollecitato lo stesso Lai a dimettersi. Ritengo inutile e dannoso circoscrivere il ragionamento sulle poltrone. Dispiace che invece di favorire un dibattito di profondità su temi importanti, alcuni preferiscano sostare sulla superficie del problema. E la Regione ha approvato il progetto Impresa Verde 3.0, che concede finanziamenti ai giovani che creano nuove imprese agricole. I premi vanno dai 35.000 ai 50.000 euro a fondo perduto, una volta ottenuta la fattibilità dei progetti d'impresa sottoposti al bando. La Giunta regionale ha approvato il progetto Impresa Verde 3.0, che prevede azioni a supporto dell'imprenditorialità per l'innovazione e la diversificazione economica nelle aree rurali. Il progetto ha lo scopo di favorire il ricambio generazionale, l'innovazione e la crescita del reddito in agricoltura. L'avvio di nuove imprese, gestite da giovani agricoltori, è sostenuto attraverso un premio forfettario di insediamento di 35.000 euro a seguito di approvazione di business plan. L'intervento può essere finanziato anche nella modalità pacchetto giovane fino a 50.000 euro di finanziamento a fondo perduto, destinato a giovani agricoltori per progetti di ampio respiro che possono concorrere sia al premio di primo insediamento che ad uno aggiuntivo finalizzato al miglioramento strutturale delle aziende. Con l'obiettivo di diversificare l'economia rurale con attività complementari alla produzione primaria, sono previsti investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole attraverso una sottomisura del piano. Altre sottomisure prevedono il finanziamento di micro e piccole imprese che offrono nelle aree rurali servizi innovativi nel campo dell'economia verde, della bioedilizia, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della valorizzazione del patrimonio artistico, turistico, artigianale, culturale e ambientale. I progetti presentati devono avere caratteristiche di fattibilità economica e ambientale e di innovazione orientata al mercato. Questi interventi sono stati presentati nel corso del progetto Rural Trainer dell'assessorato all'agricoltura, che ha coinvolto in seminari e stagi aziendali centinaia di aspiranti imprenditori con una significativa presenza femminile. Stefano Sanna, pastore 37enne di Ozieri, è stato rieletto all'unanimità presidente dell'Associazione Nazionale della Pastorizia per il triennio 2016-2019. Lo annuncia in una nota l'Associazione Italiana Allevatori nel precisare che oltre a questo incarico di livello nazionale Sanna, che conduce a un allevamento di ovini di razza sarda, a Dossieri è presidente dell'Associazione Interprovinciale degli allevatori di Sassari e Olbi a Tempio e da luglio 2016 anche dell'Ara Sardegna, da sempre impegnato nell'azione rivolta all'ottenimento del giusto riconoscimento del ruolo degli allevamenti ovini e caprini nell'ambito dell'interesse agricolo generale. Cambiamo argomento, andiamo a Sassari perché è iniziato il percorso di monitoraggio programmato della polizia locale al campo nomadi di Piandanna nella parte riservata ai musulmani di origine bosniaca. Si cerca di dare dignità ad un'area che ospita 80 persone, di cui 30 minorenni. Sentiamo Sandra Sanna. Iniziato il percorso di monitoraggio programmato dalla polizia locale al campo nomadi di Piandanna nella parte riservata ai musulmani di origine bosniaca, dove hanno trovato sistemazione circa 80 persone divise in 12 nuclei familiari. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato una mappatura dell'area con l'ausilio di un drone per controllare che l'area concessa dal comune venga gestita in maniera decorosa. Tempo fa in questa zona era intervenuto il nucleo dei creabinieri Nox a seguito della segnalazione di vari fuochi. Dalle successive indagini era anche emerso che gli incendi venivano applicati per sciogliere i cavi elettrici rubati per ricavarne il rame. In seguito erano stati presi accordi tra il settore delle politiche sociali e capifamiglia dei nomadi per sensibilizzarli al rispetto delle regole e per rendere l'area più vivibile. Già dalla visita odierna sembra che molti comuni di mondezza siano spariti, ma i bagni e le fognature che originariamente erano stati realizzati dal comune sono stati distrutti per ben due volte e ora i nomadi che risiedono a Sassari da molti decenni chiedono che vengano ripristinati, ma non solo. Che ci aiutano per dare le case, che possiamo lavare i bambini, che possiamo mandarli bene in scuola, sistemati, puliti, perché non è giusto che così i bambini che vanno sporchi dove li possiamo lavare, che container questi. Restano comunque numerose carcasse di auto, completamente cannibalizzate e molti angoli da sistemare. Intanto i 30 bambini della comunità frequentano regolarmente la scuola ed ogni mattina vengono accompagnati da uno scuolabus messo a disposizione dall'amministrazione comunale. E' iniziato dunque il lungo percorso, ma molto resta ancora da fare. Ed ora parliamo del gremio dei calzolai, dunque rimaniamo a Sassari che ha rinnovato ieri 13 dicembre la sua festa maggiore nella giornata dedicata alla patrona Santa Lucia. In mattinata nel Duomo di San Nicola si è svolto l'intrego in serata alla processione con i gremi. Luca Foddai. Il gremio dei calzolai ha rinnovato ieri la festa maggiore, nel giorno dedicato alla patrona Santa Lucia. Al mattino, al termine della messa celebrata nella cattedrale di San Nicola dal canonico Monsignor Dino Pitalis, si è svolta la tradizionale cerimonia dell'intrego. Il nuovo obriere maggiore è Giuseppe Dettori, che subentra a Pietro De Ligios. In serata la processione con la statua di Santa Lucia ha attraversato il centro storico. Hanno partecipato i gremi cittadini. L'accompagnamento musicale è stato curato dal corpo bandistico Luigi Canepa. Il gremio dei calzolai è uno dei più antichi sodalizi associativi di arti e mestieri della città. La corporazione compare in tutti gli scritti e memoriali che regolano la discesa dei candelieri. Il primo statuto venne però redatto solo nel 1564. La patrona dei calzolai è Santa Lucia, riportata sulla bandiera e sul fusto del candeliere, realizzato nel 1924 e che si caratterizza per le quattro colonnine intorno a quella centrale su cui sono disegnati gli attrezzi del mestiere, ovvero il martello, le cesorie per il cuoio e le tenaglie. La festa maggiore del gremio è il 13 dicembre e si celebra nel Duomo di San Nicola dal 1610. Ancora nel XVI secolo la cappella del gremio era invece intitolata alla Madonna dello Spasimo e si trovava presso il chiostro di Santa Maria di Bethlehem. La Madonna dello Spasimo con i Santi Crispino e Crispiniano sono rimasti copatroni della corporazione. Ed ora ad Alghero chi adotta l'Art Bonus per finanziare la ristrutturazione di edifici di pregio della città. Teatro Comunale, Scuola del Sacro Cuore e Bastione, il centro del bando aperto ai cittadini e alle imprese che vogliano accedere ai benefici dell'Art Bonus. Sentiamo il servizio. Alghero sceglie di adottare l'Art Bonus, il provvedimento governativo introdotto dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini per il finanziamento di opere pubbliche attraverso donazioni private alle quali si applicano detrazioni fiscali. Finora in Italia il progetto ha portato 131 milioni di euro grazie al contributo di oltre 3.500 mecenati. Il Teatro Regio a Torino, l'Orologio della Torre di Mantua, il Teatro La Finisce di Venezia, l'Arena di Verona sono solo alcuni esempi di opere finanziate con l'Art Bonus. Per questo la Giunta Comunale guidata da Mario Bruno, ha approvato nei giorni scorsi la definizione delle modalità operative con le quali verrà attuato ad Alghero l'importante provvedimento, su proposta dell'Assessora alla Cultura Gabriele Esposito. Nei prossimi mesi, in corsa per l'Art Bonus, ci saranno alcuni degli edifici pubblici più prestigiosi della città di Alghero, il Teatro Civico, la Scuola Elementare del Sacro Cuore, i Bastioni. L'amministrazione, spiega l'Assessora, è impegnata a incoraggiare e valorizzare attraverso la propria capacità progettuale e attraverso la collaborazione preziosa di cittadini e imprese, il valore della cultura come elemento fondamentale sia per la coesione sociale che per la crescita economica e lo sviluppo turistico. Sono stati anche fissati i finanziamenti necessari alle opere, 340.000 euro per il Teatro Civico, 230.000 euro per il Sacro Cuore, 450.000 per gli affacci a mare nella perimetrazione del centro storico. Il bando di partecipazione, che sarà pubblicato a breve, è aperto a cittadini imprese che vogliano beneficiare dell'Art Bonus. Il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Sassari, in collaborazione con il Comune di Tiesi e la Fondazione di Sardegna, organizza un convegno dal titolo Piccoli Centri Vuoto a Perdere, Spopolamento, Saperi e Governo Locale. L'iniziativa si trarà presso la sala Aligi Sassu del Comune di Tiesi alle ore 16 di domani, giovedì 15 dicembre. Il tema del convegno verrà affrontato a partire dalla presentazione dei risultati di un progetto di ricerca realizzato nel Mailogue, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, la cui responsabile scientifica è la professoressa Romina De Rio. I lavori saranno introdotti da Gianfranco Soletta, sindaco di Tiesi, e dalla professoressa Antonietta Mazzette, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Sassari. E ora Aploaghe, perché nei giorni scorsi l'Istituto Bellieni di Sassari ha organizzato una giornata dedicata alla lingua e alla cultura sarda. Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai corsi. Vediamo. Oltre 100 attestati consegnati agli studenti che hanno frequentato i corsi di lingua e cultura sarda organizzati sul territorio. Il convento di Sant'Antonio Aploaghe ha ospitato un incontro pubblico promosso dall'Istituto Bellieni di Sassari, nel corso del quale sono stati assegnati anche alcuni premi. Il primo, Osimove Salimba Salimba di Movet, dedicato alle più brillanti idee progettuali sulla promozione della lingua sarda, è andato al musicista e cantante folk Valentino Giuliano Mocci di Bono, per la realizzazione di un CD. Il secondo premio è stato assegnato a Fabrizio Pedes, astrofisico di Bitti, che ha ideato un laboratorio di astronomia. Il terzo classificato è stato Enrico Campana, originario di Orune, per aver progettato un laboratorio sull'importanza dell'acqua nell'agro di Sassari. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Carlo Soggio, accompagnato da delegato alla cultura Giovanni Salis, che hanno lasciato spazio agli interventi di Maria Doloretta Laia e Michele Pinna, presidente e direttore scientifico dell'Istituto Bellieni, e alle conclusioni di Daniela Masia, responsabile del coordinamento operatore di lingua e cultura sarda. Sì, noi abbiamo riflettuto sulle attività e sulle significazioni che è in Salis in Basarda in questa comunità nostra. Le persone che hanno partecipato in questa convinzione che ormai nel tempo del Maduro provare in modo che Salis in Basarda si affrime non solo come diritto, ma viene assolutamente pratica della vita dei 11 giorni, in Salis scuola, in suo mezzo di comunicazione, in suo travaglio. Spazio anche alla musica con il coro polifonico di Ploaghe e con la cantante Carla De Nulle accompagnata al pianoforte da Massimo Pizzalis. E torniamo in studio per la pagina sportiva. Partiamo dalla basket. La Dinamo ritrova gioco e vittoria anche in Champions League, battendo per 97 a 88 i campioni d'Ungheria dello Snolzocchi. Grande prova di squadra, ma su tutti brillano le stelle di David Bell e Trevor Orlesei. 49 punti in due. La prossima partita vedrà impegnati i giganti a Capo d'Orlando, dove troveranno un grande ex Drake Diener, punta di diamante, della formazione Sicula. Il servizio di Ico Ribicheso. La Dinamo è tornata. Sempre banale, ma è una constatazione semplice che però a guardare i numeri dice che con questa vittoria la squadra di coach Pasquini è nuovamente in corsa nel suo girone per la Qualify Round al turno successivo di Champions League. Una vittoria non facile ottenuta al cospetto di un roster che è in panca a un allenatore navigato come Stojan Ivkovic. Cronato di Dubrovnici con un buon passato anche da atleta e che sicuramente ha vinto il primo simpatia e fair play tra tutti i coach che si sono alternati sulla panca ospite. Tornando alla gara, le scorie e la fatica accumulate contro Trento non hanno fatto brillare i nostri ragazzi sul fronte difesa. Nel primo periodo si è chiuso sul 27 pari. Secondo quarto, che ha ricalcato il primo. Molte licenze concesse l'attacco ospite e riposo raggiunto con due lunghezze di vantaggio, 51 a 49. Dopo l'intervallo lungo si rivede la dinamo guerriera mirata contro Trento e a lungo deciso ai giganti fino ad un vantaggio massimo di 16 lunghezze, 76 a 64 alla terza sirena. Tentativo di rientro ai Magiari che però alla fine devono hissare bandiera bianca sotto i colpi bianco-verdi che chiudono la gara con il risultato di 97 a 88. Buona prova corale dei sassaresi che hanno visto un trascinatore in campo a nome David Bell che chiude con 31 punti. In doppia cifra anche Trevor Lesey, sempre più convincente con 18 punti e 7 assist. E l'indomito Rokstipcevic con 10 punti e 3 assistenze. Ora si lavora in vista della gara che vedrà la dinamo impegnata a capo d'Orlando contro una formazione che è la vera sorpresa del campionato. Si fa visita a un ex di lusso, Drake Dinhard, e sicuramente sarà spettacolo. Partita da interpretare nel modo giusto per continuare una sedia che può rimettere in gioco i nostri giganti nell'ottica accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Ed ora alla box. Federico Serra, sassarese di 22 anni, si conferma campione italiano elite sui 49 kg. Un altro titolo per la palestra di Pugilato di Domenico Mura. Il servizio di Antonio Solinas è argentino Tellini. Grande soddisfazione per il Pugilato sassarese. Federico Serra, 22 anni, si è confermato campione italiano elite sui 49 kg. Il veloce e potente atleta è stato anche premiato come miglior pugile della manifestazione. Un'altra gioia per il suo maestro Domenico Mura, ex pugile di grande talento che si sta proponendo come uno dei migliori tecnici emergenti italiani. Per Federico Serra si sono aperte le porte della Nazionale, prossimi impegni europei e mondiali. Si vocifera che anche Domenico Mura potrebbe avere un ruolo nello staff azzurro. Federico, adesso andrai in Nazionale, ti senti carico? Sì, tantissimo. Diciamo che abbiamo lavorato tanto per riuscire a rifare il Nazionale e questo per me è un buon vanovenimento. Non vede falora e adesso cerchiamo di lavorare bene lì. Puntiamo al podio almeno? Sì, per forza. Bisogna puntare al meglio. Federico Serra in soli due anni, come inizialmente, era la nostra sorpresa in Italia perché appena dopo otto mesi palestra vince il guanto d'oro. Dopo un anno mi vince il titolo italiano. Un anno e mezzo un altro guanto d'oro. Dopo due anni si conferma ancora campione italiano. Federico non è più una sorpresa. Penso che Federico sia una realtà. E questo era l'ultimo servizio. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. L'informazione di Canale 12 torna domani mattina alle ore 7 come di consueto. Non dimenticate la striscia informativa delle 14.30. Ora, spazio, le notizie nazionali curate all'agenzia di stampa ADN Kronos. Ma vi ricordo, anzi, vi invito a rimanere con noi dopo il telegiornale perché ci sarà un nuovo format di Canale 12 a cura della nostra redazione dedicato tutto ai libri. Il titolo del nuovo programma è L'Isola dei Libri. Quindi restate con noi. L'appuntamento invece con l'informazione e con il telegiornale delle 19.45 per domani. Vi aspetto come sempre. Vi ringrazio della vostra attenzione. Buona serata. Arrivederci.